Il Covid e la didattica a distanza non hanno fermato, anche nel secondo inverno di pandemia, la volontà e il desiderio degli alunni delle scuole pesaresi nel terminare il ciclo di studi con risultati eccellenti. È andata in scena ieri nell'anfiteatro del liceo Marconi la cerimonia dei diplomati, durante la quale sono stati consegnati gli attestati di merito agli studenti delle classi terze delle scuole medie e ai maturandi delle superiori, che hanno completato l'anno scolastico 2020-2021 con il massimo dei voti. Diverse le autorità che hanno preso parte all'evento, tra cui il prefetto della provincia di Pesaro e Urbino, Tommaso Ricciardi, il sindaco Matteo Ricci, il presidente della provincia Giuseppe Paolini, insieme al presidente del consiglio comunale Marco Perugini, il preside del liceo scientifico Marconi Riccardo Rossini e l'assessore alla crescita e alla gentilezza Giuliana Ceccarelli. È un giusto riconoscimento per il grande lavoro che hanno fatto questi ragazzi in questo anno scolastico particolarmente difficile. A dire il vero sono due gli anni scolastici particolarmente difficili, quindi a maggior ragione credo che meritano tutto il nostro apprezzamento, tutto l'apprezzamento della città per il lavoro con lo studio che hanno fatto per conseguire questi risultati. Ci sono i ragazzi che hanno conseguito il massimo dei voti, 10 e 10 elode al termine della scuola secondaria di primo grado e 100 e 100 elode al termine della scuola secondaria di secondo grado. Sono tanti, sono più di 400, sono 470 in totale e alcuni saranno assenti perché ovviamente sono partiti per le vacanze, però ci sembrava utile e importante anche per loro, per dar merito al grande studio che hanno fatto. Da tenere presente che questa era un'iniziativa che prima del lockdown era già vigente, nel senso che per le scuole medie come Comune di Pesero già lo facevamo e per le scuole secondarie, per le scuole superiori invece era la provincia che pensava a questo. La provincia non è più in grado di poterlo fare per mancanza di personale e altro e quest'anno ho deciso insieme al Presidente del Consiglio Comunale, Marco Perugini, di farlo per i ragazzi delle nostre scuole secondarie di secondo grado, per le nostre superiori. Non sono stati due anni facili, il Covid ha modificato radicalmente il nostro modo di fare scuola, le scuole medie ne hanno risentito un po' di meno rispetto alle superiori, ma comunque hanno subito il contraccolpo. La didattica a distanza, una didattica complicata, la relazione complicata ha fatto sì che questi due anni non fossero due anni normali. Quindi a loro vanno i nostri complimenti perché hanno ottenuto un risultato brillante in un momento difficile, in due anni veramente difficili. complimenti a loro veramente.